Marco Zuzolo fantastici va bene grazie buongiorno facciamo un paio di brani non lo so ancora forse soneri grazie Marco grazie a tutti 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 facciamo un pezzettino di un brano ho scritto una colonna sonora per un film secondo me molto carino che è una fiction che è andata sulla Rai con un protagonista poco conosciuto che è Luca Barbarischi grazie a tutti 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 grazie a tutti